Ragazzi, videomercato con il numero 1, Nicolò Schira, ciao Nicolò! Grazie per l'invito, un saluto a te e naturalmente un saluto a tutti gli amici di Milan Hello! Bravissimo, iscrivetevi, lasciate un like, chi non si iscrive è tifoso dell'Inter, quindi iscrivetevi. Nicolò, abbiamo qui anche il campetto, approfondiamo il discorso mercato, in portal Milan è a posto, siamo d'accordo? Direi di sì, Mike Magnano ha fatto benissimo, anzi se continuerà così, credo che l'anno prossimo con calma magari riceverà anche un adeguamento di contratto e un prolungamento, visto che comunque sta facendo molto bene, però è un contratto lungo, quindi insomma ci sarà tempo e modo con calma dal 2023 in poi. Ci spostiamo in difesa, allora partirei da qui, il terzino sinistro, perché il Milan è intoccabile, ballottura in uscita, da capire se a titolo definitivo è in prestito, qualcosa deve entrare, un nome che piace è Abner, talento brasiliano classe 2000, segnalato, l'abbiamo detto l'altro giorno, E' un ragazzo interessante, è un ragazzo che era stato studiato anche dall'Atletico Madrid, quindi comunque in Europa avanti stimatori, non costa tantissimo, perché non ha un contratto lunghissimo, scade nel 2024, però non si è ancora parlato di soldi, essere onesti, c'è stata una richiesta di interesse da parte del Milan, all'entourage del giocatore, al suo agente, qualcosa è iniziato a muoversi, quindi è un'idea, come può essere un'idea invece italiana cambiaso, ma li dipende dal Genoa, nel senso che se Genoa retrocede ovviamente deve svendere, e può essere un'occasione a prezzi più modici, se Genoa si salva lo valuta 10 milioni, 10 milioni non sono pochi per un giocatore, che non dimentichiamo che l'idea del Milan deve essere una buona riserva, perché comunque è insostituibile ed è titolarissimo a sinistra. Però, correggimi se sbaglio, Cambiaso è in scadenza 2023. Sì, anche se Genoa gli ha offerto il rinnovo, il ragazzo sta aspettando, perché ovviamente se ti salvi magari può fare un'operazione stile Bremer, rinnovo, aiuto la società a vendermi bene, così vado via anche nel migliore dei modi. Detto che Bremer è più un'eccezione al giorno d'oggi. Sì, però Cambiaso è genovese, prodotto del settore giovanile, quindi può fare anche quel tipo di scelta, anche se poi nel mercato insomma mai dare nulla per scontato. Però se non rinnova a potere contrattuale il clava coerente. Però ovviamente bisogna capire anche poi se Genoa fa l'A o la B, perché in Genoa in Serie A ha un po' più forza. Genoa in B ovviamente lo deve svendere, allora li può diventare un'occasione veramente a prezzo di saldo, mettendo dentro dei giovani magari come contropartita per fare un'operazione allargata. Che può giocare anche a destra Cambiaso? Sì, gioca sia a destra che a sinistra. Ha fatto soprattutto il quinto quest'anno più che il quarto, se vogliamo poi dare un'accezione anche tecnico-tattica, però sicuramente può fare anche il terzino, aveva fatto ad esempio a Empoli in Serie B l'anno scorso. Hai citato l'Empoli in nome di Parisi? È un altro ragazzo che stanno visionando e monitorando, però anche lì l'Empoli è una bottega cara, al momento parte da 8-10 milioni come valutazione che non sono pochi. Poi se il prezzo scende cambiano le prospettive, altrimenti per tutti i Parisi viene ritenuto un ragazzo interessante, ma da prendere come giolli, come alternativa e quindi a quelle cifre vai a prendere un titolare solitamente. Con l'Empoli però ci sono ottimi rapporti, lo sappiamo, Grunic, Ben Nasser e forse non solo, ma restiamo in difesa, abbiamo fatto le candidature, a destra Milan è a posto così, riscatterà Florenzi, qui magari con uno sconticino, perché no? Bravo, un miloncino 500 mila euro, qui Sven Botman, qua pronto a impostare. L'accordo c'è con Botman e adesso bisogna animare con il Lille, però il giocatore vuole in Milan, sta aspettando il Milan, ha ricevuto due o tre altre proposte in giro per l'Europa, in particolare la Premier League, il Tottenham, il West Ham, oltre allo storico Newcastle, si sono fatte avanti e al momento lui ha ringraziato tutti, ma ha detto ho l'accordo con il Milan, sto aspettando il Milan, la sensazione è che insomma il Milan appena riuscirà a trovare la quadra con il Lille, siamo solamente, insomma il campionato deve ancora terminare, c'è tempo, non siamo ancora a maggio, giugno, quindi ci vuole anche un po' di pazienza, ma le sensazioni sono estremamente positive, è un giocatore che il Milan in questo momento è in pugno, che non ha chiuso, ma è molto molto avanti. Non ha chiuso, ricordatevelo, escludi un cambio di strategia vista la crescita di, non di Tomori, ma di Caluru? Allora, da un punto di vista logico può avere un senso la tua riflessione, però non arrivano segnali in questo momento da Vialdo Rossi in tal senso, anche perché comunque Romagnoli resta in uscita e quindi alla fine comunque un centrale lo devi prendere. E doveva Romagnoli? Lazio, il primo a dirlo, Nicolò Schira, molto molto interessato. Ha seguito anche sul suo sito Nicolò Schira.com. Esatto, grazie. Ci spostiamo, c'è anche autopromozionale. Eh beh, mi sembra giusto, ci spostiamo al centrocampo, il sostituto di che sì, magari con caratteristiche anche diverse. Sì, assolutamente, ci sono diversi. Su Renato Sanchez, ne parlavo prima, ti sento un po' meno caldo rispetto a un mesetto fa. Bisogna un attimo di mare all'aspetto economico, perché comunque il giocatore ha uno stipendio importante, vuole guadagnare di più, insomma parte da una base intorno ai 5 milioni più bonus, un po' altina secondo il Milan. Il Milan vorrebbe un pochino sforbiciarda, non di tanto, ma risparmiare qualcosina. Le parti si parleranno nei prossimi giorni, a Tesorghe Mendes, si parlerà ovviamente del rinnovo di Leao, ma si parlerà anche del futuro di Renato Sanchez. Quindi sicuramente è un tema questo che il Milan sta portando avanti, ma non è l'unico, perché giustamente come tutti i grandi club devi studiare anche altre alternative. Dammi un paio di alternative, una ne abbiamo parlato un po' che fa. Il francese Fofanà sicuramente è un giocatore seguito, in Italia Frattesi piace molto, e poi ci sono anche delle possibili occasioni, ad esempio nei giorni scorsi al Milan è stato proposto una vecchia conoscenza. Brian Cristante, prodotto del settore giovanile, debutò 16 anni nel Milan in un Milan l'Atalanta 3-0, è un giocatore che prometteva tanto, poi si era perso, poi è rinato, comunque è un nazionale, un campione d'Europa, può essere un elemento utile in chiave liste, perché è italiano ma è anche prodotto del vivaio, quindi ha una doppia utilità sia per le liste della Serie A che per le liste UEFA, può essere un'occasione perché lui comunque è in uscita dalla Roma, Mourinho lui e Veretout li ha messi sul mercato, vuoi altri centrocampisti. Proposto da Riso che ha ottimi rapporti con il Milan, può essere un'idea, tanto Riso è anche la gente di Frattesi, quindi sono altri centrocampisti, tra l'altro sì, anche non solo, è di tanti giocatori, quindi ovviamente secondo me a quello di Milan può arrivare un tesoretto, visto che è citato Riso anche da Caldara, perché Caldara se Venezia non si salva non verrà riscattato, ma Torino e Verona hanno già chiesto informazioni, quindi Spera di incassare 4 milioni, che era la cifra comunque stanziata ai tempi per il riscatto dal Venezia, vedremo se saranno 4 o qualcosa in meno, ma comunque può essere un piccolo tesoretto poi da reinvestire in Serie A di Campania. Mi hai citato Frattesi e mi piace molto, quindi Renato Sanchez poi candidature Frattesi, Cristante che... Fofanà è stato visionato nelle ultime settimane facendo un grande campionato anche Tamese, su Veritù onestamente in questo momento c'è molta confusione, perché lui ha cambiato anche il procuratore, quindi sono cambiate un po' le dinamiche, ha delle richieste alte Veritù, perché ha detto no al rinnovo della Roma a 4 milioni, quindi mi sembra un po' fuori parametri da molte squadre italiane. Su Cristante immagino è delusione, però l'idea è abbiamo Tonali, Ben Nasserra, non ci serve un titolarissimo, Cristante è uno che comunque ha esperienza e quello che non investi sul centrocampista lo investi. Sì, magari sulla tre quarti il famoso esterno offensivo. Arriviamo lì sulla tre quarti, il tre quarti bar esterno di destra? Più esterno di destra forse che tre quartiste in questo momento, studiando anche le occasioni che può offrire il mercato della Premier League, che ha dimostrato comunque negli ultimi tempi, Milan ha pescato molto bene con Tomori e Giroud, sta pescando con Orighi, ma anche da Roma con Temmie Abram, Napoli con Anguissa, prendi quei giocatori che magari in Premier non sono dei protagonisti assoluti, ma sono comunque dei ragazzi con potenzialità e talento. In Italia, dove onestamente è inutile prendersi in giro la Serie A al livello più basso in questo momento rispetto alla Premier League, sono dominanti. Tomori era il quarto centrale al Chelsea, è il miglior centrale del miglior. Fammi i nomi dell'esterno. Stanno valutando un po' di giocatori, non siamo ancora sull'identichismo. Ci sono diversi dossieroli. Siamo un po' nella fase che vengono proposti tanti giocatori, si era parlato ad esempio di Ismail Assar, però Assar le richieste sono molto alte, quindi non convince del tutto, anche se è stato visionato. Lang? Lang viene visto più come esterno a sinistra. Che però può giocare anche... Lo so, però è un adattato, se tu devi spendere 25 milioni... De Kettler? È un trequartista, è un ragazzo che hanno visionato. Che può giocare anche lì, è eclettico, d'utile. Sì, anche se più nel ruolo di Brahim Diaz, per caratteristiche diverse da Brahim rispetto che esterno, bisogna poi capire anche se cerchi un giocatore polivalente o se cerchi uno specialista, perché se vai a spendere 20-25 milioni è che devi andare a prendere una scommessa, devi prendere uno che ti possa permettere di fare un upgrade. Per fare un esempio, Berardi è stato visionato, non è che c'era bisogno di visionarlo, già lo conoscevano, l'hanno ristudiato. È un giocatore importante a livello italiano, ci sono dei dubbi che possa essere un top o con quello che ti sposta, ti fa la differenza, ti sposta l'equilibrio a livello internazionale, soprattutto sono le valutazioni, 1090, 15-16 milioni, a quelle cifre lo farebbe? Sassuor ne chiede 30, quindi oggi la forbice è ampia. Però è il pallino di Pioli, lui vuole cambiare, non credo che abbia mercato all'estero, questo può far ben sperare, ma non tutti qui, dietro questo schermo sono estimatori. Sassuor, ti dico la verità, storicamente sì, magari partiva da una cifra venduta un po' meno, ma non la metà prezzo. Ecco, mi sembra a quelle condizioni difficile. Però magari a 22 e mezzo, ok, bisogna capire se per il Milan, giustamente, un giocatore che ha già 28 anni e quindi non è che ha tutte queste possibilità di crescita, il giocatore 28 anni prima agosto, li farà quando comunque sarebbe almeno. Sì, però comunque insomma, poi alla fine della stagione... Ma Scamacca? Scamacca anche gli dipende dalle condizioni economiche, nel senso che il Milan lo segue da tempo, lo stima, però è chiaro che se tu devi prendere un giocatore e hai già un attacco affollato, Ibra, Giroux, Orighi, non spendi 40 milioni in questo momento, gli spendi magari estate prossima nel momento in cui Giroux vedrà scadere il contratto, Ibra magari smetterà, allora a quel punto devi andare a prendere uno subito che possa essere il protagonista. 40 milioni cash, come chiede il Sassuolo, in questo momento fanno fatica tutti in Italia. All'estero magari c'è un po' di interesse, ma il ragazzo preferirebbe restare in Serie A, quindi secondo me è una situazione che si porterà a lungo, a meno che poi il Sassuolo non cambi idea e apra, questo vale per il Milan, vale per l'Inter, vale per tutti, all'inserimento di contropartite tecniche. Allora cambia il discorso, ma se tu fai un ragionamento solo cash, 40 milioni sull'unghia, è difficile e complicato per tutte le nostre società. Cioè ci dobbiamo aspettare una monca data? Qualcosina il Milan studia sempre, anche a livello di giovani, sono stati proposti, sono stati visionati tanti nel 2005, 2006, 2007, ovviamente che andrebbero nell'Under 17 o in primavera, che il Milan comunque in questi anni ha operato anche in tal senso, l'abbiamo visto anche in occasione dell'ultimo torneo di Biareggio, quindi il Milan sicuramente lavora in prospettiva, non cambia la sua filosofia e politica aziendale, al tempo stesso però l'abbiamo visto anche con occasioni tipo Giroud, tipo Kier, se c'è un giocatore importante, con i parametri giusti, sia tecnici sia economici, anche se vuoi di valori, perché comunque Maldini vuole anche dei giocatori che abbiano un certo modus operandi in campo e fuori, poi è chiaro che il Milan si fa trovare pronto, ma la base c'è, deve fare quei 3-4 acquisti per ulteriormente alzare la sticella, ma non dimentichiamo che comunque è una squadra che già sta votando per lo scudetto, quindi significa che ha dell'individualità ad un certo livello. Le altre news su nicoloschira.com, andate numerosi mi raccomando, vi invito a lasciare un like e iscrivervi qui, chi non si iscrive, come dico sempre, il tifoso dell'Inter, Nicolò grazie. Grazie a voi, è stato un piacere, un saluto a tutti. Alla prossima, ciao 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 ciao. Ciao ciao.